Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Io non voglio più sentire canzoni dove dicono tu sei mia, io sono tuo, ma basta con questo linguaggio, l'amore è un paio d'ali, non è un lucchetto, ma l'edizione ha inventato l'amore come lucchetto, non è un lucchetto l'amore, non è una cosa effettiva. Tu che sei un uomo sensibile, attento a questo libro, ti senti quasi, sei più arrabbiato o rassegnato, vorrei capire da te.